Continua, non si placa, si infiamma la protesta degli operatori volontari del 118 per quella che è la loro condizione lavorativa. Nessuno faticherebbe, con tratto alla mano, a considerarli lavoratori di Serie B. Eppure per la loro professionalità e soprattutto per il settore in cui operano sono lavoratori, e lo precisiamo, da Champions League che oggi ancora una volta, non per l'ultima volta, si sono ritrovati a protestare contro la mancata internalizzazione di fronte alla sede ASL di Via Napoli a Brindisi. Questa protesta continua nei giorni a venire, non demordiamo perché siamo qui per lottare per il nostro futuro, logicamente, e l'unica cosa che chiedono, che non si può tornare indietro, è l'internalizzazione del servizio 118. La situazione è da dieci anni che è così e ancora non si può mettere a posto. Avete individuato qualche colpevole per questa situazione? Colpevoli non ce ne sono, a meno che qualcuno non si faccia avanti spontaneamente. Il problema è che il sistema non funziona come dovrebbe. Chiedono diritti, chiedono ugualianza, chiedono di non essere sfruttati dalle associazioni di volontariato, chiedono di non essere più vittime di un sistema che continua a negare la loro internalizzazione. Non abbiamo né malattie, né ferie, nulla, nulla di quello che possono avere tutti i lavoratori internalizzati o con uno stipendio normale come tutti gli altri, ne è busta paga, nulla. Lavoriamo 12 ore al giorno, non abbiamo nulla di tutto quello che hanno i lavoratori come il nome deve essere lavoratori. C'è un'altra cosa che c'è una mia. Pensate che oltre che a noi all'utenza, perché noi siamo e ci mettiamo dalla parte dell'utenza considerato che è quello il nostro lavoro. La nostra primaria, proprio primaria, emergenza è che il cittadino si senta al sicuro, ma noi vogliamo la nostra dignità. E non vogliamo soluzioni alternative a questo problema, che non sia l'internalizzazione, non ci interessano soluzioni alternative. Noi qui resteremo fino alla fine, bloccando il servizio, facendo tutto quello che è possibile per essere internalizzati. La protesta proseguirà ad oltranza, pur garantendo il servizio in giorni, quelli di festa, considerati a rischio di emergenza. Un servizio che però, proprio a causa della precarietà degli operatori, è perennemente in bilico. Questi signori non trasportano pizza a domicilio, ma salvano vite, ma molti sembrano dimenticarlo.